Un atto importante nel senso che con circa 11 delibere noi abbiamo posto le condizioni per la definizione del bilancio preventivo 2018 da parte della giunta comunale e la successiva discussione in consiglio. Nel senso che abbiamo affrontato il tema della Tari, quindi della tassa sui rifiuti, il tema dell'occupazione suolo e quindi i costi per esposizioni, per eventi, per fiere e per altro e via via tutti gli altri temi che caratterizzano il capitolo delle entrate di un'amministrazione comunale. Lo abbiamo fatto in una situazione difficile ma con un occhio particolare le condizioni di maggiore debolezza perché anche nei momenti di difficoltà, anche con leggi che ci costringono a tagliare ed inalzare le percentuali, l'attenzione ai costi sociali delle nostre azioni è sempre elevatissima.